Spiace, la Ferrari è stata bravissima, ma la McLaren ha meritato il titolo mondiale dei costruttori. Lo dicono le prestazioni superiori della macchina, lo dicono il numero di successi e pole position, lo dicono tante altre cose fondamentali, compreso il non trascurabile fatto che la posizione economica del team sino a poco tempo fa non fosse brillantissima. Ci hanno pensato gli arabi del fondo sovrano del Bahrain a riportare la tranquillità e l'ottimismo, acquisendo il 100% del gruppo britannico. Ed è poi toccato un manager italiano che la Ferrari si è fatta sfuggire, l'ingegnere orvietano Andrea Stella, mettere la ciliegina sulla torta portando walking. A dispetto di tutti il titolo è ridato. Fuori piastri alla prima curva per una delle abituali scorrettezze di Verstappen e chi ne ha messo in discussione la responsabilità evidentemente ha visto male. È toccato a Norris salvare la McLaren da una possibile catastrofe che avrebbe avuto il sapore di una clamorosa beffa. Lando stavolta ha salvato il team così come in precedenza lo aveva mandato a picco. Ed è stato un riscatto sia per lui sia per la McLaren perché ha allontanato tante ombre che altrimenti avrebbero compromesso la serenità della sosta da qui sino ai primi di marzo del 2025 quando si tornerà in pista. Bravissimo Norris quindi e bravissima la Ferrari che ha dato il meglio provandoci con coraggio e determinazione benché sin dalla vigilia fosse emersa la superiorità tecnica della McLaren. Non di molto solo un paio di decimi di secondo a giro che poi sommati per 58 passaggi hanno fatto la differenza. Sainz che ha una visione sempre chiara dei Gran Premi ha capito che più in là del secondo posto non sarebbe riuscito ad andare. Leclerc che invece ragiona generosamente col cuore andando sempre oltre la logica ha provato l'impossibile recuperando ben 11 posizioni al primo giro. Poi si è dovuto inesorabilmente accontentare. Ma per la Ferrari è stata una sconfitta non una disfatta come accadeva in altri momenti. Cinque vittorie e cinque pole position col terzo posto finale di Leclerc sono un buon bilancio e migliore della gestione Vasseur. L'anno prima del suo arrivo Binotto aveva portato a secondo posto sia Charles sia la squadra. Ma le prospettive per il futuro oggi sembrano ottime con rinforzi tecnici da poco arrivati che si sono aggiunti a un gruppo solido, unito. E a proposito di 2025, di quel 2025 che comincia già oggi, c'è tanta attesa per l'arrivo di Lewis Hamilton sul quale Eddie Jordan ha già maliziosamente detto che sarebbe meglio che si facesse da parte prima di cominciare l'avventura in rosso. Io non sono d'accordo. Quella di Hamilton a Maranello è una scommessa un po' folle, piena di ragioni e motivazioni. Mi piace vederla alla prova, scoprire se Lewis ritroverà la verve dei momenti migliori, la motivazione per puntare all'ottavo titolo. A 40 anni per Lewis sarà una prova del fuoco, una prova che avrebbe potuto evitare e invece ha accettato con la certezza di non fallire. Un bel coraggio. Noi siamo qua alla finestra ad aspettarlo, sorseggiando l'immancabile fedele tazzina di caffè.